Il Tribunale di Arezzo ha fissato il 14 giugno l'udienza per dichiarare lo stato di insolvenza della FIMER, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini, al centro di una crisi che ha visto sfumare proprio nei giorni scorsi il passaggio di proprietà al fondo Grebull McLaren. Il decreto stabilisce che l'udienza si terrà alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy o di un suo delegato, che dovrà indicare, entro tale data, i tre nominativi che dovranno ricoprire il ruolo di commissari giudiziali per l'azienda produttrice di inverter per il fotovoltaico. Lo stato di insolvenza aprirebbe infatti le porte alla procedura di amministrazione straordinaria per poi permettere un eventuale rilancio. Nello stesso decreto di convocazione, il Tribunale dispone che del provvedimento siano a conoscenza anche i creditori del concordato preventivo e il pubblico ministero. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato una riunione in videoconferenza per mercoledì 7 giugno alle 11. Questa settimana infine saranno due le visite allo stabilimento Valdarnese dove i lavoratori stanno continuando l'occupazione. Giovedì 8 giugno alle 17 arriverà il Vescovo di Arezzo Cortone e Sansepolcro Monsignor Andrea Migliavacca, mentre sabato 10 giugno alle 11.30 ad incontrare i lavoratori della FIMER sarà l'Onorevole Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico ed ex Presidente della Camera.